Ciao da Apsim! Bene, mi pare di capire che, come al solito, se c'è qualcuno bravo in Allegrentus, scappa via a gambe levate, oppure viene allontanato, oppure gli viene impedito di lavorare bene. Ci sono diversi casi, abbiamo una casistica. A questa casistica si aggiunge evidentemente Matteo Tognozzi, di cui abbiamo parlato sempre pochissimo. Da luglio 2017 in Juventus e poi anche con lui si è trasformata, direi suo malgrado forse, in Allegrentus e adesso, come da comunicato ufficiale di ieri della società bianconera, il bianconero è l'unica cosa tradizionale e storica che sia rimasta ormai a questa società, ma insomma con il giallo della prima maglia e chissà quale altra esuberanza magari abbandoneranno pure quello, va a fare il direttore sportivo nel Granada da subito e non sarà immediatamente sostituito. Si parla in questo senso di Pompilio, che dovrebbe arrivare dal Napoli in estate, quindi per il momento l'Allegrentus può fare a meno di Matteo Tognozzi e della sua figura, di capo scout sostanzialmente, di scopritore di talenti e parliamo di quelli che ha scoperto. Pompilio quindi dovrebbe riconciliarsi, ricongiungersi, congiuntoli, ricongiuntolirsi a questo punto mi viene da dire, con la sua scadenza del contratto con il Napoli a giugno 2024, quindi l'Allegrentus e Giuntoli stesso non hanno fretta, Tognozzi ha fatto quello che ha fatto finora, adesso per qualche mese, compreso la finestra invernale, non c'è bisogno di lui, per quanto parlando di uno scout, lo scout non ha a che fare con le finestre di mercato. Se scopri e segui un calciatore, lo scopri e lo segui anche a febbraio, anche a novembre, poi sarà appunto il direttore sportivo ad incastrare l'acquisto e la trattativa nell'ambito di una finestra di mercato. E lui, Tognozzi, nel 2019, come riporta la società bianconera sul suo sito, a proposito, se qualcuno, magari è disponibile anche il dominio allegrentus.it, allegrentus.com, non ci ho fatto un pensiero, vi lascio così, se qualcuno lo vuole acquistare per un investimento, magari potrebbe anche tornare utile, perché questa storia dell'allegrentus potrebbe anche continuare per anni, se resta allegri, figuriamoci, fa sapere che nel 2019 Tognozzi ha conseguito, infatti, il titolo di direttore sportivo e quindi ha pensato di andarsi. Ora, quello di cui dobbiamo parlare sono un paio di aspetti. Il primo è perché un giovane è già promettente, ma già con un ottimo curriculum, capo scout, decida nel corso della stagione, così, di andare a fare il direttore sportivo da un'altra parte. Perché gli è arrivata l'offerta di fare il direttore sportivo e non si è voluta far scappare? Sì, diciamo che è salito di livello, comunque, a livello di ruolo, di professionalità, perché da capo scout, da fare il direttore sportivo, sale qualche gradino. Però nel Granada non credo che salga qualche granadino rispetto all'allegrentus. Questo dovrebbero dire anche i tifosi giuventini veri e i giornalisti giuventini veri. Infatti l'altro aspetto è quello che riportano i giornalisti, cioè perché uno come Tognozzi, che ha fatto quello che ha fatto, adesso lo ricostruiamo, decida all'improvviso di andarsene dall'allegrentus, non per andare al Real Madrid, Barcellona, Manchester City, fate il nome di qualunque squadra di primissimo livello, di primissimo ordine. E uno dice, vabbè, ma nessuna squadra di primordine avrebbe preso un non direttore sportivo, perché ha il titolo ma non l'ha mai fatto, per fare il direttore sportivo. Quindi è normale che, è come quando, ecco vedi, Paolo Bianco, da assistente tecnico di Allegri in Serie A e in Champions League e in Europa League, con un altro anno di contratto, prende e se ne scappa, questo sarebbe un altro caso da citare, per andare a fare l'allenatore, il primo allenatore però in Serie C. E giustamente se sali di livello devi anche scendere di livello, cioè se sali di livello di professionalità devi farlo ad un livello più basso di competitività. E ci sta. L'altro aspetto è proprio come i giornalisti, nonostante siano, come sappiamo, totalmente acritici, totalmente appiattiti, allineati e sempre a sostegno della proprietà, della dirigenza. A proposito, stiamo scoprendo degli andreagnelliani di ferro, anzi proprio d'acciaio inossidabile, incredibilmente critici nei confronti di andreagnelli. Una cosa, l'ho letto ieri sera qualcosa che ho detto, no forse non sono lucido, poi cerco di recuperare e poi vi farò sapere. Poi magari ne parliamo, perché ho visto degli accenni, ho visto delle sfumature che sono veramente incredibili. Cioè chi ha militato per anni, per anni, oltre un decennio a sostegno di Andrea Agnelli più che della Juventus, oggi incredibilmente sta dalla parte di John Elkan. Ma io questo l'avevo previsto, infatti l'avevo detto già da un anno. Attenzione, perché senza Agnelli, gli agnelliani devono decidere che fine fare. O restano con Agnelli e si mettono a fare i superleghisti oltransisti, abbandonando la Juventus e contestando, passando all'opposizione. Oppure devono fare le banderuole, che evidentemente sono sempre state, perché della Juve non gliene frega nulla, ma soltanto di altre cose. Parentesi, chiusa. E dicevo, con giornalisti sempre così allineati, a sostegno, sempre va tutto bene, sempre questi va benisti, non si può mai criticare. Chi critica è fuori dal mondo, chi pensa così non capisce niente. Vengono degli elogi incredibili nei confronti di Matteo Tognozzi. Se andate a vedere un po' in giro, chiunque dei giornalisti parla oggi di Matteo Tognozzi ci dice che Matteo Tognozzi ha scoperto. Huizen. Ma ha scoperto nel senso che se l'è andato proprio a prendere, cioè è andato lì, l'ha visionato, ha preso i contatti. Huizen, e su Huizen abbiamo una testimonianza di pochi giorni fa, di un'intervista, non mi ricordo se del padre o del procuratore, o comunque entrambi che hanno parlato un po' di questa sua situazione, adesso all'Allegrentus, in cui hanno detto che è stato Matteo Tognozzi che è andato lì a visionarlo. È rimasto anche più tempo del dovuto perché c'era un problema. Quindi grandi elogi nei confronti di Tognozzi perché materialmente abbiamo delle ricostruzioni oggettive su quello che ha fatto. Allora Huizen, Hildiz, Healing Junior, Sule, praticamente tutti quelli di cui stiamo parlando oggi, tutti quei giovani promettenti di cui poi gli stessi giornalisti fanno un vanto per l'ottima gestione dei giovani da parte della società, tutti quelli che hanno un valore, tutti quelli che sono stati in buona parte anche buttati da qualche altra parte, sono stati comprati tramite l'opera di scouting di Matteo Tognozzi in questi anni. Quindi stiamo parlando di uno che improvvisamente, quando se ne va, scopriamo essere stato fondamentale. Perché tutti questi giornalisti che ovviamente hanno contatti continui e stretti con la dirigenza, queste cose le sanno, ma non è che giustamente, devo dire, fai un articolo al mese o addirittura una settimana su quanto è bravo Tognozzi. Il problema è un altro, che quando si è parlato in questi anni, quando si è parlato in questi anni della bravura della società Allegrentus nell'andare a scovare talenti, nell'andare a costruire l'Under 23, il lavoro sui giovani, l'ottimo lavoro sui giovani, raramente, perché lo faccio di lavoro, di leggere quasi tutto quello che viene pubblicato praticamente su questa squadra, raramente si è fatto il nome di Tognozzi. Più in generale si è parlato di società brava, e lo si è dato come un dato di fondo, un dato di fatto, cioè il contesto di tutta quanta la narrazione era la società è stata brava a fare scouting, e poi di tanto in tanto leggevi Tognozzi, è stato lui. Però facevamo fatica a capire chi era e cosa faceva Tognozzi, chi era e cosa faceva Manna, chi era e cosa faceva Claudio Chiellini prima di andarsene e poi è tornato, e poi tra l'altro Cherubini. Perché quando Allegri, la scorsa stagione, ricordiamolo, ha rivendicato più volte l'ottimo lavoro fatto, non dimentichiamoci, l'ottimo lavoro sui giovani, significa che se è lavorato bene la società, ha lavorato molto bene sui giovani, perché la next gen, ne faceva quasi uno sponsor da campagna elettorale, sembrava volesse difendere il suo, tra virgolette, Cherubini, per un discorso di equilibri politici, perché non dimentichiamo che Calvo non voleva Allegri, forse anche altri non volevano la permanenza di Allegri, Cherubini e Manna si diceva stessero dalla parte di Allegri, allora erano un po' di fazioni. Invece, forse, Allegri, da una parte cercava di far passare il messaggio che Cherubini era stato bravo, però forse difendeva anche questo Tognozzi, non lo so, e a questo punto possiamo provare a reinterpretare e riscrivere questa storia. Fatto sta che Tognozzi, evidentemente, perché deve essersi pure reso conto, e quindi provo a rispondere io alla domanda che ho fatto prima, cioè all'aspetto rilevante da considerare, forse perché deve essersi reso conto che il Diz, sì, diciamo che sta giochichiando, ma pochissimo, e neanche nelle sue condizioni ottimali. Huizen adesso lo stanno lanciando, ma lo si poteva considerare titolare, e non dimentichiamo che sta giocando perché sono rotti Alexandro e Danilo, e anche De Sciglio, perché con Alexandro, Danilo e De Sciglio lo sappiamo tutti, ma lo sappiamo tutti, che Huizen non solo non esordisce a Milano contro il Milan, ma non gioca proprio, ma non lo si vede proprio. Poi abbiamo appunto Sule, che è stato mandato al Frosinone, Barrenecea non so se è stato frutto dello scouting pure di Tognozzi, ma immagino di sì, perché sono venuti entrambi dall'Argentina nello stesso periodo, Barrenecea e Sule. Ealing non sta giocando più, e si sta anche un po' lamentando, potrebbe doversene andare a gennaio, perché cerca minuti. Allora, deve aver pensato, ma io qui sono bravo, ho competenze, mi sono sbattuto per trovare tutti questi talenti, ve li ho portati, oggettivamente ho fatto un ottimo lavoro, poi non si dà seguito a questo mio ottimo lavoro, che tra qualche anno sti ragazzi saranno titolari, se e quando, chissà dove, cosa me ne frega, allora piuttosto che continuare a portarvi l'oro, e voi pensate che sia cioccolato, che siano pepite di cioccolato rivestite con la carta attorno, me ne vado da un'altra parte a fare io, il direttore sportivo, guidando lo scouting, e quindi, tra l'altro, se Tognozzi era ed è stato il fulcro dello scouting bianconero, oggi, chi resta a fare scouting? Perché Tognozzi, i suoi contatti, se li porta al Granada, non è che dice, vabbè, tutto quello che ho fatto per voi, lo lascio a voi, e quindi quelli che ho scovato per voi, non li contatto da direttore sportivo, e non li porto al Granada, capite? E quindi si va a perdere, non solo Tognozzi, ma tutto il suo know-how, tutto il suo bagaglio, di competenze, e il lavoro, sostanzialmente, che ha fatto. Come si è detto, quando Giuntoli si è andato dal Napoli, Giuntoli si è andato dal Napoli, e si porta le competenze, e poi si è scoperto che invece era proprio Pompilio, ed altri, che lavoravano con lui, e per lui, ed erano loro, e sono rimasti loro, i depositari delle competenze, probabilmente, nello scouting, e nella direzione sportiva del Napoli. E quindi, potrebbe succedere adesso la stessa cosa con Tognozzi. Quindi abbiamo un bel po' di ipocrisia, perché ripeto, quando Tognozzi lavorava bene, si parlava della società, a che. Ora, però, la cosa curiosa è che se tutti questi giornalisti, spesso a critici, stanno lanciando questa figura di Tognozzi, proprio nel momento in cui se ne va, come una pedina fondamentale. Pensate quanto è fondamentale! Cioè, se loro che normalmente cercano di non mettere mai in imbarazzo la società, di non criticare mai, di non esprimere mai una critica negativa, stanno lanciando questa figura, la stanno proponendo come una figura fondamentale, pensate, pensate se al posto loro ci fosse stato io, o uno come me, prevalentemente critico, che cosa avrebbe potuto dire oggi di Tognozzi? Immaginiamo, cioè aggiungiamo anche questo dettaglio. E allora, evidentemente, stiamo parlando, come diceva all'inizio, di una società in cui chi vuole lavorare male rimane anche anni, rimane anche anni, chi vuole lavorare bene a un certo punto se ne va. E quindi abbiamo visto adesso Tognozzi, che è qualcosa di clamoroso, imbarazzante, credo che sia imbarazzante la fuga di Tognozzi, se questo è il contesto. io mi rifaccio a quello che dicono i giornalisti, io non lo conosco Tognozzi, lo sto vedendo adesso in foto, non l'avrei neanche riconosciuto, pur essendo a seguire la Juve da anni, dal 2017, certo che c'ero, mai visto, cioè non avevo neanche mai memorizzato il suo volto, quindi non sto qui a dire ah, io lo so che Tognozzi è bravissimo per poter criticare la società. Sono proprio quelli che non criticano che curiosamente stanno dicendo che Tognozzi era fondamentale. E quindi mi rifaccio a quello che dicono loro. Se lo dicono loro, che normalmente, ripeto, non pongono mai le basi, il contesto per una critica alla società, alla dirigenza, vorrà dire che a maggior ragione è così. E quindi è qualcosa di imbarazzante questa fuga. Poi abbiamo visto Paolo Bianco, che aveva un biennale, e ha preferito andare a fare il primo allenatore in Serie C piuttosto che continuare a fare l'assistente di Allegri, viene da chiedersi allora perché Dolcetti, Trombetta, Landucci siano da vent'anni al seguito di Allegri, l'ombra di Allegri e non se ne vanno mai da qualche altra parte. Lascio lì la domanda. Poi ci saranno tantissime altre motivazioni. Poi Giuntoli, se noi stiamo a sentire i giudizi di Giuntoli, andiamo a finire male. Allegri il più talentuoso di tutti, il top player o quello che sia, la punta di diamante. E poi chi ha detto che Dolcetti, mi pare abbia detto che Dolcetti è uno scienziato del calcio, una cosa del genere, come anche Folletti che, ricordiamolo, Andreini arriva estate 2022 per fare Head of Performance, quindi per gestire la cura, per curare la parte atletica e fisioterapica di tutte le squadre maschili dell'Allegrentus e dopo pochi mesi lo sbattono a Vinovo a occuparsi solo di Under 19 e Next Gen, così da non toccare la figura di Folletti che può continuare a follettare e infatti stiamo vedendo che quest'Allegrentus folletteggia benissimo a livello di tenuta muscolare. Ma insomma, io non so, poi uno dice ma tu critichi sempre, ma di cosa dobbiamo parlare? Ma di cosa dobbiamo parlare? Del rinnovo di Gatti, del rinnovo di Locatelli, del rinnovo di Rabiot, di queste scelte, non lo so. Poi, Tognozzi avrà commesso sicuramente anche i suoi errori, avrà sbagliato nello scout. E si parla anche di Nonge, Nonge, su cui ieri Allegri ha tirato una cosa in conferenza su Nonge, mamma mia, da mettersi le mani nei capelli per chi ce li ha, ma di questo parliamo in Non guardate l'Allegrentus, nuovo episodio, naturalmente in onda stasera in premiere durante Allegrentus di contenuti allegriali che stasettimana abbiamo qualcosa di succulento, proprio di fragrante, cose meravigliose, anzi, vi raccomando, se guarderete l'episodio, e mi auguro che lo farete, anche successivamente di star seduti, comodi, rilassati, perché si rischia di traballare su certe cose che sono state scritte in questa settimana. E dunque, cos'altro? Nulla. Fondamentalmente questo, si cerca chiarezza, a questo punto si cerca chiarezza, di capire se veramente Tognozzi è stato così fondamentale o resta qualcun altro in grado di fare scouting, quali saranno le conseguenze su questo tanto bel progetto next gen, perché ha deciso di andarsene, se c'entra qualche cosa la mala gesti o allegri su determinati giovani, se sarà scorciata a un certo punto, chi lo sa, e se vale questa regola effettivamente che quelli bravi, competenti e preparati all'Allegrentus resistono poco visto che si tratta di Allegrentus. E se questa cosa poi avrà una ripercussione anche sulla serenità e sulla posizione di Allegri che sappiamo fa finta di non essere interessato alle vicende dirigenziali e di mercato, ma in realtà è in primissima linea a farsi fare le cose come richiede lui perché altrimenti poi sbotta nelle secrete stanze e manda magari qualcuno o meglio troviamo poi qualcuno che curiosamente parla in sua difesa in pubblico. questi sono ulteriori dettagli che proveremo ad approfondire intanto quello che c'era da dire credo di averlo detto e vi lascio allora lo spazio per proseguire nell'analisi nel confronto nel dibattito qui sotto nei commenti e se volete anche su Discord il mio server aperto a tutti con tantissime chat compresa quella dedicata all'Allegrentus trovate il link nella descrizione per poter accedere. Iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere i prossimi contenuti mettete like e condividete questo video se vi è piaciuto abbonatevi a partire da 99 centesimi al mese per avere tanti vantaggi e seguitemi anche sul mio secondo canale YouTube Apsim Out primo link in descrizione video brevi sul calcio ci vediamo molto presto e senza compromessi sempre Allegri Out Apsim Out Apsim Out Apsim Out Apsim Out Apsim Out Grazie.